22 concerti con ensambla di grande fama e con una predilezione per la musica cameristica che toccheranno ben 10 luoghi evocativi nella provincia di Arezzo. Torna così il music festival Terre d'Arezzo, la rassegna organizzata dall'associazione Opera Viva con la direzione artistica del pianista Andrea Trovato, giunta ormai alla sua sedicesima edizione. Il lavoro dura tutto l'anno, inizio già a settembre-ottobre a pensare al calendario successivo e arriviamo quindi ai primi di luglio con la presentazione. Con la collaborazione della Fondazione Guido d'Arezzo e della Diocesi Aretina, la rassegna si concluderà domenica 22 agosto 2021 ed ospiterà come di consueto al suo interno la rassegna organistica Arezzo Organ Festival. Noi come musicisti dobbiamo essere aperti a tutti coloro che amano la musica e che hanno attenzione verso questo mondo dei suoni e di offrire al pubblico delle cose di alta qualità.